Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Le anticipazioni di Terra Amara che andremo a vedere oggi riguardano le puntate che andranno in onda da lunedì 22 a sabato 27 maggio. Episodi ricchi di colpi di scena veramente forti e di emozioni che vi terranno attaccati al televisore. Ma prima di iniziare lasciateci un bel like al video, iscrivetevi al canale ricordando che per noi è molto importante e voi così potrete essere sempre aggiornati sulla vostra serie turca preferita. Ma ora andiamo avanti senza perderci in chiacchiere. Ciò che accadrà è questo. Dal momento in cui Demir prende atto di ciò che mostra il video va su tutte le furie. Sua moglie e Ilma a quanto pare sono amanti. Si abbracciano in quel video che gli hanno mandato. Lo Yaman e la Kaia dovranno allearsi per salvare Kukurova dalle grinfie di alcuni uomini che voglio prenderne possesso. Sanye invece smaschererà il ladro dei suoi gioielli. Gafur che glieli ha rubati per venderle e saldare il debito con Atip. Mentre in villa Yaman si inizierà ad organizzare la proposta di matrimonio di Cetin e Gulte. Ma vediamo tutto più nei dettagli. La sera precedente a tutto questo casino Demir svela a sua moglie di voler comprare una raffineria insieme a Ilmaz poiché entrambe le famiglie sostengono che solo unendosi possono ovviare la minaccia su Kukurova. Dall'altra parte la dottoressa Mujigan non vede di buon occhio l'unione delle due famiglie e fa notare a Ilmaz che tutte le volte che lui tenta di vivere serenamente lontano da loro lui invece fa il contrario. Così la discussione tra Ilmaz e Mujigan sfocia in una scenata davanti anche a sua zia Beice e a Fekeli. Invece in villa Yaman Demir confezza a Zuley la sua fiducia in lei con una vera e propria dichiarazione d'amore e le assicura che tutto ciò che Mujigan o qualsiasi altra persona vuole fargli credere lui non lo pensa assolutamente. Inoltre lo Yaman le sottolinea di essere stata sempre accanto a lui, a sostenerlo e che è orgoglioso di lei oltre a sentire l'amore nei suoi riguardi sempre più forte. Il giorno dopo Mujigan pur non essendo stata invitata si recca alla riunione dell'associazione esordendo di volerne parte parte come collaboratrice. Quella dottoressa inizia a mettere le mani avanti per ciò che accadrà a breve con il video che ha inviato Demir. Dopo un po' di tempo invece Nassie scorge Sermin e Beice sull'uscio di casa della prima salutarsi molto amichevolmente e fa notare alla moglie di Atip quanto possono essere pericolose quelle due donne insieme. Poi Nassie decide di rivelare a Unkar ciò che appena visto in questo giorno medesimo verrà celebrato il fidanzamento di Gulten e Cetin. I preparativi sono iniziati e tutti sono impegnati in qualcosa per la festa. Gulten è al settimo cielo e felicemente sta organizzando la celebrazione nei minimi dettagli, entusiasta del suo prossimo e vicino matrimonio. Sermin prepara il cibo e Zulella l'aiuta riguardo al vestiario, dando in prestito alcuni dei suoi vestiti più belli e adatti per quell'occasione, mentre il matriarca dice a tutti che la festa si terrà all'interno della loro villa. Successivamente, sempre in quella giornata, il nuovo proiettore di Demir gli viene consegnato e insieme a sua madre decide di guardare la pellicola che gli ha mandato la dottoressa Mujigan. La rabbia prende il sopravendo nel suo animo. Demir e Unkar hanno appena visto il video in cui Zuleyla incontra Ilmaz. Lo Yaman perde il controllo e impugnando la sua pistola intima Zuleyla a salire in auto, mentre Unkar lo esorta a stare calmo, timoroso che faccia qualcosa di male alla ragazza. Mujigan assiste, nascosta alla scena e capendo di aver esagerato cerca conforto nella zia raccontandole tutto e cercando di giustificarsi sin dal principio della sua spiegazione dicendo di sostenere che Ilmaz e Zuleyla avevano organizzato la loro fuga e sicuramente avevano intenzione anche di prendere il piccolo Kerem con loro. Bige però la rimprovera e inizia a pensare che Mujigan abbia dei seri problemi psicologici. Mentre in villa Unkar, sconvolta da quello che è accaduto, cerca Fekeli per farsi accompagnare a cercare Demir e Zuleyla per tentare di evitare il peggio. Demir Yaman ha portato sua moglie lontano nei boschi e con la pistola in mano pensa e ripensa alle scene che ha visto nel video di sua moglie e Ilmaz e alle parole sulla pellicola di Mujigan in cui diceva che era la sua prova per dimostrargli che lei non è pazza. Zuleyla imbrò dal marito a stare calmo perché non ha fatto davvero nulla e non ha mai neanche pensato di poter infangare la sua reputazione e mettere sotto i piedi il suo orgoglio. A questo punto Demir le fa notare che a lei non è mai importato di questo, non è mai interessata di ciò a cui lui tiene e della sua dignità come uomo. Zuleyla apprende che la fautrice di tutto ciò è la dottoressa, proprio lei li ha inseguiti e li ha filmati. Poi la giovane spiega a suo marito che voleva soltanto una conferma da Ilman sul fatto di Ercumet e quindi sapere se realmente lo avesse ucciso lui. Ma quando Zuleyla confessa di essersi preoccupata per l'accaia, Demir perde ancora di più il controllo e le punta l'arma contro. Nel frattempo Feke e Leungar giuncono nel bosco e quando erano ancora lontani dai loro occhi sentono degli spari provenire proprio da lì. I due genitori sono sconvolti e temono che Demir abbia colpita in un punto vitale. Così accorrono sul posto ma in vano lì non trovano nessuno. Quando Demir torna a casa ha le mani sporche di sangue e proprio in quel momento arriva anche Unkar che lo vede da solo e in quelle condizioni. Tutti sono in preda alle preoccupazioni e ignari di quanto accaduto. Queste puntate si concludono così lasciando un velo misterioso. Ma cos'è successo veramente? Lo vedremo in un prossimo video che vi farò. Però vi lascio anche un link sotto in descrizione dove potete vedere in anteprima le scene che sono successe. Quindi anche queste anticipazioni sono giunte al termine. Lasciate un bel like e commentate e fateci sapere cosa ne pensate. Noi saremo sempre lieti di leggere il vostro pensiero. Ma non dimenticate di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla vostra serie turca preferita e non solo. Un saluto e a presto.